salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video nuova rubrica lascio ora doppia ovvero una rubrica in cui vi mostro alcuni prodotti che ricomprerei per la seconda volta che possono essere cose di casa prodotti per la pulizia e tanto altro oppure prodotti che andrei ad eliminare a buttare qualcuno forse lo metterei anche un po in stand by per capirlo nelle volte successive ma sostanzialmente vi voglio far vedere un po i vari prodotti che andrei a ricomprare quindi a raddoppiare oppure a lasciare se questa tipologia di video ti può interessare fammelo sapere con il tuo like e il tuo commento qui sotto iniziamo subito allora cominciamo dalla lavatrice perché questi prodotti sono un po random non voglio fare dei video a categoria fissa tipo tutti per la lavatrice tutti per il forno tutti per la cucina eccetera eccetera onde evitare di accumulare prodotti tutti lì per molto tempo quindi faccio una miscellanea di prodotti e vi dico secondo me quelli che lascerei e quelli che raddoppierei allora questo sicuramente è un ottimo ammorbidente l'ho comprato anche io in realtà per chi mi segue nei blog ha visto che io dovevo regalare a una mia amica che non trovava in zona o questo ammorbidente e visto che era in sconto ho preso un paio di ammorbidenti per lei sono andato ad annusarli prima di andargli a regalare infatti anche lei snasava quello che gli ho regalato io che era diverso da questo io avevo regalato sia questo che un altro della di questa profumazione e mi è piaciuto molto questo qui in realtà volevo provarne anche altri infatti alcuni di voi dopo quel video mi hanno commentato filippo quelli che ha preso tu sono quelli peggiori forse come profumazione è meglio che utili che vai a provare anche le altre in realtà sono andato poi da dal questo negozio tipo acqua e sapone per andarli a provare quindi volevo prendere anche altre profumazioni che mi sono state consigliate soprattutto da sabina che mi segue alla quale mando un saluto e un abbraccio enorme e mi ha detto di prendere altri tipi di profumazione ma in realtà non ho trovato nient'altro e quindi ho lasciato questo qui e non ho preso nessun altro di questi parliamo di un ammorbidente della deo 2 voi sapete in utile che mi dilungo e soprattutto se mi seguite non mi dilungo tanto su questa cosa che non utilizzo sempre l'ammorbidente a tutti i lavaggi e lo utilizzo solo su capi che non stanno a diretto contatto con il corpo questa è una mia scelta e soprattutto per l'utilizzo soprattutto per le tende cuscini questi qua da divano e poche altre cose però ovviamente quando lo vado ad utilizzare quando voglio un ammorbidente quando mi necessita ad esempio anche su alcune magliette che in qualche modo voglio rendere più facilmente stirabili utilizzo l'ammorbidente in questo caso questo come ammorbidente proprio non come profumazione perché molto spesso facciamo l'errore che per andare a valutare poi il profumo non andiamo a prendere a comprare un buon ammorbidente cioè proprio per la funzione di ammorbidire appunto i capi questa linea qui almeno questo qui che ho provato io è ottimo per questa funzione proprio di ammorbidente infatti ammorbidisce meglio i capi l'ho provato una volta anche su una coperta quella più fina che sto utilizzando in questo periodo e devo dire che quando l'ho messa sul letto visto che è un materiale non del tutto cotone è un po di materiale sintetico all'interno che gli dà la possibilità di stendersi meglio quando sono andato a mettere questa coperta sul letto e ho steso così tirato con le mani ho notato che questo davvero aveva ammorbidito moltissimo e quindi ridotto molto le pieghe su questi tessuti lo ricomprerei lo raddoppierei oppure lo lascerei questo lo lascio perché la profumazione mi è piaciuta ma non tantissimo e devo dire che attenendosi alle dosi consigliate poi magari in un altro periodo dell'anno mi piacerà di nuovo questa profumazione l'aria acquisterò ma in questo periodo la lascio anche perché vi ripeto questa profumazione un po talcata flor d'or sarebbe questa qui non mi ha proprio entusiasmato nel tempo ovvero i capi si si sentivano no ma non tantissimo se utilizzate la dose consigliata se invece andate a sversare un po come fate tutte quante voi allora lì sicuramente sentite un po di più il profumo ma i panni non vengono poi puliti meglio quindi questa volta lo lascio e non lo raddoppio altro prodotto che ho utilizzato che mi è un influencer di pulizia e quant'altro è stato questo qui per il dc che vi ho fatto vedere almeno altre due tre volte sul canale perché l'ho comprato e ricomprato in quanto a questo profumo di mandorla che secondo me è troppo forte disincrostante gel denso efficace rimuove germi e batteri agli sport e calcare questo qui se devo dire mi è piaciuto perché sicuramente ha un'ottima azione di pulizia per quanto riguarda il dc ma per quanto riguarda l'odore è troppo forte secondo me non riesco ad abituarmi a questo tipo di odore mi piacciono più quelli alla candeggina che profumano secondo me meglio ecco meglio nonostante sentono di candeggina questo secondo me ha un odore troppo troppo forte troppo troppo chimico e quindi sicuramente lo lascio in questo periodo assolutamente lo lascio intanto si muove l'altalena così a casa mia succedono cose ma non lo so forse avrà sbattuto con l'alta della finestra non lo so vabbè comunque comunque altro prodotto che vi voglio attenzionare è questo qui che ho utilizzato fuori soprattutto per i marmetti per quelle zone del balcone che erano un po scurite questo è della fila l'ho preso alcuni mesi fa è un detergente anti alghe per esterni elimina muffe licheni annerimenti casati da smog polvere ristagno delle foglie visto che io ho tante piante fuori dal balcone fuori ai vari balconi tendono sempre a sporcarsi tantissimo soprattutto la zona attorno ai vasi e c'è una parte proprio l'ultima parte della casa che ha l'ultima zona proprio del balcone il balcone del retro che era già abbastanza neri neretto diciamo questi marmetti hanno abbastanza scuri molto molto neri e non sapevo come far venire via già da quando ho comprato casa questo nero ragazzi ho provato questo prodotto che si va a spruzzare sul pavimento su questa zona del pavimento già imbagnata abbastanza bagnata si va a spruzzare si fa agire c'è tutto comunque scritto qui dietro e dopo si deve andare a sfregare con una spugna in realtà non mi sono messo tanto di spugna perché volevo provare visto che ne avevo provati tanti ho detto vabbè lo provo giusto così vedo un po e poi dopo se comincio a vedere che si leva un po il tutto allora vado proprio di spugna l'ho fatto con quella spazzola che ho comprato su temu per andare a quella che gira elettrica l'ho grattato insomma con quella spazzola dopo 15 minuti della della posa e ragazzi davvero io sono rimasto senza parole e c'è un prima e un dopo la differenza degli due colori mentre lo facevo e ancora devo farne altro perché dall'altro lato si fa subito visto che c'è del verde eccetera si fa subito questo tipo di sporco ovvero lichenia nerimenti e quant'altro quindi se avete problematiche di sporco di questo tipo questo è un prodotto super top e quindi lo raddoppio sicuramente lo raddoppio e questo per sempre non è solo del periodo lo raddoppio per sempre quindi lo ricomprerei poi ancora altro ammorbidente per caso perché io non utilizzo molti ammorbidenti ma ho quelli proprio vecchissimi questo è quasi finito cioè c'è proprio tanto così ma parliamo di un ammorbidente che se avete visto sul canale avrò preso almeno quattro cinque mesi fa e sto parlando di questo lenore capri che nel periodo primaverile che ancora non è proprio pieno in quanto passeremo direttamente all'estate è saltata la primavera ormai visto il tempo brutto nel periodo primaverile estivo mi piace sempre di più soprattutto sulle camicie e qua dice stiratura facile sicuramente non come questi qui questo un po più ammorbidente e ne ho provati altri che sono sicuramente cioè che rendono lo stiro più facile questo più che altro per la profumazione mi è piaciuto zero coloranti prodotto un'energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili fresco anche nei cicli brevi e a freddo è vero perché l'ho provato per alcuni capi non capi tessili dovevo lavare a freddo con ciclo un po più breve un po più delicati e ho notato che la profumazione comunque durava dura tanto non tantissimo però si sente quel leggero profumo di profumo maschile che mi piace moltissimo questo qui sicuramente lo raddoppierei anche questo lo vado a raddoppiare nel tempo magari a periodi alterni ma anche questo è super super raddoppiato altro prodotto che vedete qui dentro perché ovviamente ho svuotato tutto vado a mettere all'interno di questo contenitore sopra la mia lavatrice queste pods non utilizzo sempre pods a ogni lavaggio ma per quei lavaggi che voglio un po più efficace e certi e che hanno già un carico prestabilito vado ad utilizzare le pods della dash in particolare utilizzo e sto utilizzando perché ho fatto grande scorta con un'offerta queste qui della dash con insomma antibatterico igienizzante extra igienizzante infatti c'è questa questo liquidino rosso che va a denotare appunto il lavaggio igienizzante il prodotto extra igienizzante devo dire che rispetto alle altre pods queste costano un po in più e quindi le prendo solo ed esclusivamente in offerta come anche le altre non ho mai preso pods a prezzo pieno non mi sognerei proprio assolutamente ne ho provate anche di altre marche ma queste della dash mi sono piaciute tantissimo in particolare mi piacciono quelle classiche le classiche che hanno la colorazione classica che hanno una profumazione ragazzi ottima buonissima queste invece sono molto più per quei lavaggi quando non volete andare ad utilizzare anche la candeggina delicata perché hanno un'azione extra igienizzante quindi li ho voluti provare proprio per capire se necessitava insomma della candeggina delicata soprattutto per le magliette che avevano un po di sudore in più per qualche cattivo odore queste vanno utilizzate ovviamente con in base anche al carico e allo sporco quindi se non andate ad utilizzare la candeggina delicata e volete e avete dei capi abbastanza sporchi che hanno un cattivo odore un cattivo odore un po più in mercato e non volete solo per quei lavaggi quando non volete utilizzare la candeggina delicata ma un solo prodotto queste qui sono ottime però se ne dovevano utilizzare almeno un paio quindi per un lavaggio un po più strong io vi consiglio un paio di queste ottime anche sui bianchi se avete dei bianchi molto sporchi le potete utilizzare queste io le utilizzo anche per i bianchi per le tovaglie per tutto ovviamente alcune macchie devono essere trattate ma in genere per tutti i tipi di capi anche quelli bianchi queste fanno miracoli sono stra ottime quindi le lascio o le raddoppio le lascio queste le lascio le pods extra igienizzanti della dash mi sono piaciute ma per adesso almeno in questo periodo le lascio e non le ricomprerei perché perché non mi è piaciuto che non lasciano una buona profumazione proprio che era caratteristica delle dash pods che a me piacevano tantissimo il profumo delle dash pods quelle classiche ragazzi si sente sempre e a volte si sente anche molto di più dell'ammorbidente quindi quel profumo lì mi manca vi dirò la profumazione di queste non mi piace affatto anche perché non si sente una profumazione vanno a levare tutti gli odori cattivi odori di sudore ad esempio però per la profumazione no non ci siamo credo perché abbiano aggiunto questo questo liquido igienizzante e quindi non possono dare quel profumo che tanto speravo perché così avrei utilizzato solo queste in quanto facevano l'utile e il dilettevole ma assolutamente quindi le lascio e niente questi hanno cinque prodotti che lascio o raddoppio fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere così giro altri video anche per altre tipologie di prodotti che possono essere detersivi e food piuttosto che cose di casa libri e quant'altro quindi nel calderone lascio o raddoppio mettiamo un po tutto noi ci vediamo al prossimo video se questo video vi è piaciuto lasciatemi il vostro like ciao